Fraude fiscale nel settore del commercio di energia elettrica, eseguiti sequestri per 600.000 euro. Il nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli, all'esito di un'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli, ha dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, emesso dal GIP del Tribunale di Napoli per il reato di autoriciclaggio e riempiego di denaro proveniente da reati tributari nei confronti di una società operante nel settore dell'energia elettrica, riconducibile a due soggetti legati dal vincolo coniugale. È stato sequestrato in particolare uno yacht del valore di circa 600.000 euro acquistato dalla società nel 2016 in un paradiso fiscale nonché delle somme provenienti dal successivo noleggio della lussuosa imbarcazione, ritenute essere il profitto del reato di autoriciclaggio. Le indagini delegate agli specialisti del gruppo Tutela Entrate hanno messo in luce un articolato sistema di frode fiscale nel settore del commercio di energia elettrica tra varie società di un unico gruppo, attraverso l'emissione di fatture relative ad operazioni inesistenti, generando falsi crediti IVA e costi fittizi a beneficio dell'unica società del gruppo effettivamente attiva.